Speriamo che abbia messo a posto sta benedetta Metta la macca Speriamo C'è Franco che c'ha già l'ansia, capito? E sono anche contento che dall'altra volta sei migliorato Paolo, livello 1 Bravo Bravo, bravo Bravissimo Vai Da solo? Ah, c'è il tuo Da solo Lui prende l'anno Bravo, bravo Buoh, soddisfazione della Madonna questa Oltre tutte sono soddisfazioni Questa è una grande soddisfazione Perché mi chiama Quando lui è in griglia di partenza Lui è in griglia di partenza Cioè con l'altro avversario Mi chiama Io sono a casa Qua è in fila? Fede 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 Quindi non posso neanche chiedere che passione che ho Di la verità Però cosa gli hai dito? Inpegnarsi al massimo Ma è E comprando la Subbalaro Beh, questa qua Come ho anticipato all'inizio Non è un voto ovviamente Né discutibile da voi Però io sono stato lì molto a ragionarci su Anche con loro E Franco è arrivato a livello bronzo Bravo Bello zio Bravo 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 Calma, calma, calma Questo è pesante E' la prima volta che danno il bronzo oltreoceano Un altro applauso Grande C'è anche un premio Molto significativo Per il lavoro svolto da Franco E non me l'aspettavo neanch'io Un gesto tra piloti Molto, molto importante Molto significativo E' la maglietta personale di Kuma Con cui vorremmo dire Sorry 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 E' la maglietta personale di Kuma E' la maglietta personale di Kuma E' la maglietta personale di Kuma Bravo 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 Ok Ok, so We have For the advanced class We have Resultate from the Summer Run All scores Yes So if you want to know Please come to us Ok We explain everything Se avete Lo so che siete presi benissimo Va bene così Se avete qualche domanda da fargli Sulle qualifiche che avete fatto Il punteggio Io prima ve l'ho dato il punteggio No? Ma volete chiedermi il perché Il per come Te lo so Va bene così Ma voglio La mia vita di questa costura Addirittura La prima gara che ho fatto Non sapevo che cos'era Quei big point E questo è avvenuto Cinque mesi fa Maggiore sono cinque mesi fa Non sapevo che dovevo andare A cercare Quei big point E che c'era E che c'era E ho fatto il corso con loro L'altra volta Purtroppo Di un giorno solo Ha fatto He came Other training day But unfortunately He came only for one day He came on Sunday E oggi Mi hanno reso Molto sui He is damn happy He is damn La volta Ragazzi Un mega applauso per il timone Grazie a tutti Grazie a tutti. Buongiorno, il prossimo training in Italia.